Quando sono stato eletto alla presidenza della Commissione regionale antimafia ho cominciato a leggere insieme ai miei commissari tutto quello che abbiamo a disposizione, soprattutto a partire dalle relazioni della DIA e non solo, abbiamo effettuato audizioni di ogni genere, le Camere di Commercio, i Presidenti dell'autorità portuale, l'associazione bancaria italiana, i sindacati, Confindustria eccetera, il quadro che ne viene fuori è quello che ha detto lei, cioè non assolutamente una mafia diciamo antropologicamente definita con la coppola, anzi ma una presenza sottile, ramificata e direi incistata nel territorio Ligure dell'Andrangheta che però ha un livello di specializzazione e di professionalità, se così possiamo dire, anche per quanto riguarda la conoscenza degli appalti, i rapporti con la finanza, l'imprenditoria, la politica che era al di là di ogni o mio più terribile successo. E quindi è preoccupante la situazione? E' molto preoccupante ed è preoccupante il fatto che la Liguria, nonostante che tutti ameremmo dire che è priva di questo fenomeno, è preoccupante dire che invece è presente ed è una per esempio delle regioni in cui la confisca dei beni è più presente, noi abbiamo più di 480 beni in tutta la Liguria sequestrati e confiscati. Ecco Libera recentemente ha redatto un report. Ci sono diverse banche dati, Libera ha effettuato un report molto interessante, tra l'altro è stato presentato la settimana scorsa un bellissimo libro che si intitola, parla della situazione, della storia della mafia, ha trattato il tema dei beni e Libera insieme ad altre associazioni, ma soprattutto Libera ha dato un quadro insieme ai portali che esistono presso regione Liguria, poi c'è quello anche di mafia in Liguria, è una situazione molto preoccupante e di quanto si è ramificata anche per la consistenza dei beni. A Genova c'è il sequestro Canfarotta che è un sequestro da più di 115 immobili nel centro di Genova e recentemente si è aggiunto un sequestro Zappone da circa una decina di immobili e poi ci sono in circa 22 comuni Liguri altri beni. Ecco poi ovviamente si tratta di utilizzarli al meglio, rimetterli in circolazione, farci cose magari in molti casi anche simboliche, però credo che i numeri sono così vasti che non si possono erigire simboli dappertutto, anzi bisognerà riutilizzarli. In Regione è stato fatto un bando, no? Sì, in Regione sono state fatte alcune cose, dunque innanzitutto lo dico diciamo senza falsa modestia, il fatto che vi sia una commissione regionale antimafia che è stata istituita al termine della consigliatura precedente ha fatto in modo che ci fosse una spinta propulsiva e lavoriamo molto bene collegialmente con i miei colleghi commissari e abbiamo prodotto una proposta di legge sui beni confiscati perché ci siamo accorti che nelle nostre competenze non c'è quella di indagine perché la nostra commissione antimafia non ha competenze di indagine ma c'è quella normativa invece, quindi abbiamo pensato che mettere in correlazione la Regione, l'interregione con i comuni che sono poi quelli che ricevono i beni confiscati dallo Stato fosse buona cosa. Quindi la nostra commissione ha una proposta di legge in avanzata fase di elaborazione e nel suo iter dentro la commissione. L'assessore Benveduti e la Giunta quindi hanno collaborato e hanno prodotto a loro volta un testo, un DDL che assomiglia alla proposta di legge e si può benissimo integrare e in base a questo è stato emanato un bando efficace all'inizio di agosto che si chiudeva il 25 di ottobre e che vedeva 500 mila Euro di investimento annuali che sono quei famosi 500 mila Euro che ogni anno noi abbiamo chiesto con emendamenti al Presidente Totti da quando ci siamo insediati e che finalmente hanno trovato la loro sostanziazione. Il bando ha avuto successo, possiamo dirlo, perché ne sono stati chiesti 493 mila da sei comuni della Liguria, tra cui Genova naturalmente, La Spezia, poi c'è Arcola che è un comune dello Spezzino, poi Serraricopi tra Ligure e Spotorno. 493 mila Euro richiesti su 500 mila, si tratta di un volume di affari di più di 700 mila Euro perché la Regione non mette tutti i denari ma è previsto un cofinanziamento dei comuni per un 20%, quindi noi siamo molto soddisfatti, è un lavoro che devo dire volentieri, di cui mi ritengo soddisfatto credo anche con la Giunta, anzi sicuramente. Certo, è bello anche che ci sia quest'idea di un lavoro anche trasversale su alcuni temi che non hanno colore politico, un politico che dovesse dire che sono a favore della mafia si qualificherebbe da solo senza bisogno di ulteriori precisazioni. Le grandi opere, le opere in generale, poi è chiaro che le grandi sono dei banchetti succulenti su cui evidentemente le mafie si infilano. Dico già, comincio con un'opinione, questo non deve fermare l'innovazione e ciò che viene ritenuto importante per la nostra Regione in generale per il Paese, però bisogna fare attenzione anche perché il PNRR che finanzia molte di queste attività rischia di essere visto come una cosa da fare subitissimo perché va fatta subitissimo perché i tempi sono molto stretti. Ci sono due tensioni diverse sulle quali bisogna trovare un equilibrio. La prima è che i fondi del PNRR devono essere spesi, cantierati e chiusi entro la fine del 26. La seconda è che non ci si può permettere velocità eccessive in questioni come questa perché gli appalti fanno appalti soprattutto di questo genere, ma tutti gli appalti, ma questi in particolare, pensiamo solamente alla questione della diga, come è stato quello del ponte Morandi, ex Ponte Morandi, sono appalti che ipso facto fanno gola alle organizzazioni mafiose. Ora sul Ponte Morandi è stato fatto un ottimo lavoro, tra l'altro ho ascoltato anche alla presentazione di questo libro l'ex procuratore di Lecce che fece il controllo su tutto l'itere e che farà anche per quanto riguarda la diga e il ribaltamento a mare di fincantieri, perché c'è bisogno di un'attenzione molto forte su tutta la filiera degli appalti, non solamente sull'appalto grande ma anche su tutti i subappalti e su tutte le ditte che sono infinite che verranno coinvolte. E quindi bisogna controllare, secondo la normativa prevista, tutti coloro che interverranno, anche i singoli lavoratori in qualche maniera che interverranno in questo lavoro. È un lavoro enorme su cui il dottor Di Lecce ha dato il suo impegno anche recentemente e che io vedo con grande favore, perché non sono favorevole alla velocità a tutti i costi, credo che ci debbano essere dei paletti ben precisi, d'altra parte mi rendo conto che per opere di questo genere, pena perdere il finanziamento, bisogna trovare anche dei modi per controllare molto severamente e velocizzare la donazione al sicuro. Peraltro poi ci sono stati anche dei casi, io un po' me ne sono occupato, in cui poi l'odore della mafia è stato, come dire, scombrato il campo da questo. Per esempio sullo scolmatore, un'azienda era stata fermata per supposte infiltrazioni mafiose, poi però invece in un secondo tempo ha riottenuto la riabilitazione perché aveva già fatto un'operazione dei polisti all'interno della sua azienda. Questo evidentemente va pesato, anche perché poi quel tipo di decadenza dai lavori e dai contratti è immediato e ovviamente ci sono anche tanti lavoratori, per esempio, che non sono mafiosi per niente, lavorano per l'azienda, sanno assai che poi in realtà lassù, ai vertici dell'azienda, c'è qualcuno che invece non ci doveva stare. Questo è un tema molto interessante perché accanto ai beni confiscati di tipo immobiliare ci sono le aziende confiscate, che in Liguria non sono tantissime, sequestrate confiscate però esistono. Ora qual è il paradosso? Che naturalmente l'azienda che viene confiscata deve essere, diciamo così, depurata dall'elemento mafioso, ma molto spesso quando viene depurata fallisce, perché non ha più le agevolazioni di tipo illegale e delinquenziale che c'erano prima, magari non può fare i prezzi che faceva prima perché non ha più quei canali, però fallisce quando è pulita. Quindi bisogna stare attenti, io ho molta fiducia nella magistratura in questo senso, spero che l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, come sembra che si stia avviando a fare, abbia degli strumenti maggiori anche dal punto di vista del personale e delle risorse per gestire in maniera più veloce, però sempre efficace, i beni, perché è un sentiero piuttosto stretto che però porta a un bene collettivo straordinario, perché prima di tutto il bene confiscato o l'azienda viene rimessa in circolo e il più delle volte con uno sfondo sociale straordinariamente importante. E poi perché è bene ricordare che simbolicamente vedere un bene che delinquenzialmente era nelle mani di mafiosi e poi vederlo della libera disponibilità di associazioni per il bene pubblico e collettivo è anche simbolicamente uno schiaffo dato alla mafia.